bella ragazzi bentornati nel canale del clan rjr oggi vi porterò di nuovo su mv3 perchè sono talmente pro da farvi queste grandi sfide queste grandi gameplay sempre per mostrarvi la mia grande potenzialità in storia su mv3 già c'è una grafia di merda poi vado molto a scatto e mv3 ci gioca più gente e è migliore penso di portarvi un po' più bimpli su questa qui come vedete siamo sul cinema e ho fatto queste due partite in arcaden domino in fallen e ho fatto le partite da pro in cristo ora ve lo riproduco e ve lo mostro subito una classe overpower una classe overpower allora anzi ora piano piano infatti in questo video non si sentirà né tastiera né nulla il nome del gioco e basta penso inizio allora l'unico questo che cazzo c'è scritto neanche i nomi di un po' questo è giusto questo si raccoglie da non ho visto il cinema che ho fatto la prima cazzata di appena ho fatto intorno nella partita comunque su ghost stiamo ancora vedendo perchè che cazzo ma per cosa registrare su 2s3 e ora mi cazzo si leva questo via e e mostra azione ok va e vabbè questo qui era il nostro guarda mi ha fatto lucida il mio proprio video e cos'è insomma come si può insomma registrare ora ma grazie per questo video l'ho fatto in full size un pezzo in fraps ora si dovrebbe vedere meglio lo spero ora me la riguarderò pure però se questa serie vi piaccia cioè io continuerò a farla spero che vi piaccia se no me lo commentate e dite che serie vuole che fare quindi che io vi faccia e che altro devo dire poi e e quindi grazie siamo di cento iscritti ringraziamo molto Raph mi dobbiamo fare qualche video non so di ringraziamento più di cento iscritti nulla diceva il spazio a questa partita non l'ha fatto l'altro che non succede non succede non succede se più o meno succedono proprio cioè vedi questa partita infatti se stavo registrando me l'ho mandato bene il gioco cioè se non avrei fatto questa partita proprio adesso non ho registrato ho fatto una partita da dio ho fatto 21-8 se l'avessi registrato in quel momento l'avrei fatto perdare come sempre come provate a farvelo riportare al cinema non ci ne vanno nulla mi mostro davvero non mi poto inserire poi già a questo punto sto computer non è neanche sopportato poi non ti ci vorrei visto e allora che ho posto grazie ora poi non sono neanche magari sto in ampio stiamo prendendo bravo una vaso molto forte è un overpower è questa qui che sto utilizzando con la cvr dove con mi sembra ha consensato vinculo e basta sì abbiamo anche mangiagranati per chiudere i nemici a distanza ma non mi sembra che serva l'ho tolto ora sto cercando farmela d'oro ci devo un po' di lavorare perchè ho tanti armi che voglio fare poi quando sali di prostigio si sa che tu li viene finito quindi potete vedere anche le valli 80 poi vabbè mi meto la gru poi arma secondaria mi scelendo più nuova silenziata perchè mi sembra abbastanza certi poi ho messo semtex e storbenti poi sali di punti ho messo vabbè vabbè approvvigionamenti mi sono estern io sono estern si ma io li cerco e allora ho messo come cosa so fatta sui 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 ehm e poi ho messo vendetta come come mappa cuore a morire del nome ehm poi speciale promessa assassino ehm gioco di prestigio e silenzio di tomba che senta non ho idea non ho prima idea ma bene penso eh non questo è quello che io non commenterei neanche tanto perchè sa ma avendo quello rizzato cioè avendo quello rizzato ecco su questo canale non so come non so come non so come cazzo di proprio come fare video cioè sono un esperto non so tanto come fare video eeeh guarda qui che sarà meglio mamma mia io ho proprio arato il culo arato eeeh best partita in the world un pro uomo mio eeeh 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 se stai guardando il culo fino nel culo vedi che è come forte e non ti cazzare se ti batto a ciocchino a sniper che guarda mi sai che se non la so fare come non mi devo vedere proprio se ha ben chiaro non mi sbarrettare poi arrivavo e vedo mamma va eeeh resta vicino non sarebbe stato migliore appunto non commenterò molto perchè o non farvi vedere questa partita perchè era una serie migliore che ha fatto che ha fatto eeeh non succedono come mai perchè non c'è nemmeno molto però poi 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 non conto nulla quindi ora anche dopo aver fatto un'altra però non di g non 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 ma non non però questi diciamo che è un gameplay c'è dove per un tipo vlog o dalle genere insomma pure nessuno può farvi sapere un pochino cosi, uno dei clan esteri come avevo già detto che vi porteremo un sacco anche video c'è anche Rector mi ha detto che vuole fare una serie per fare nuovi gameplay da varie serie di giochi e poi ci vuole pensare io continuo a fare la serie sul code sento se vi piaccia ora guarderò anche se qualche altro gioco me lo scaricherò dynamic fa sempre la sua parte guarda guarda sembra anche per registrare se il boss è che mi stai attendendo spero adesso guarda guardate qui è impossibile giocarci se io guarda guarda matti io faccio il massimo massimo faccio un'uccisione sponendo e muovo sponendo e muovo sempre così ho raramente diciamo il cane che ha 4 uccisioni ora vedete la mia chi il cane la meglio in the world eeeh guarda lì mamma mia un pro un cazzo di pro 218 mamma mia ho fatto sapere anche le livelle mi sembra non lo so eeeh no non lo so allora finito il video spero che questo video vi sia piaciuto commentate mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi ora vi faremo sapere cos'altro faremo insomma vi ringraziamo quelli 100 iscritti quando lo metterò mi sembra che adesso non ci siano non ci siano numeri 100 iscritti quando lo metterò ci saranno 200 mi sembra perchè sai sempre anche in 3 in 4 su su questo crano non è che possiamo mettere video ogni giorno cioè tipo subito subito no cioè non avrebbe tanto senso ora penserò a cosa portarvi insomma tutto tutto quello mi servirà per fare video vi farò sapere eeeh ci vediamo al prossimo video eeeh mi raccomando mettete un bel mi piace se no ti sfondo il cuore bella ci vediamo al prossimo video bella